Il Cagliari è una sorpresa che si è rimasta coinvolta nella processione perché è un organico di qualità e anche era una squadra che si era consolidata in storia da molti anni, mentre il Cesena ci è arrivato con qualche rammarico per non aver fatto sì che in un momento decisivo della stagione erano riusciti a vincere due partite che potevano cambiare tutto nonostante la rincorsa lunga fatta in modo positivo. Quindi su quello che vale la gara è chiaro che per noi davanti al nostro pubblico l'ultima partita vale tanto perché per la nostra società, per i nostri tifosi, domani l'ultima partita bisogna cercare di fare, onorare al meglio la maglia come abbiamo fatto fino a domenica scorsa, cercando, io dico sempre con la compattezza e soprattutto con la concentrazione che la squadra che quando l'ha messa in campo poi attraverso il gioco è riuscita anche a fare risultati. E quindi attraverso questo cerchiamo domani di provare a fare un risultato positivo per tutti, per tutti, per i nostri tifosi che soprattutto nella penultima partita in casa alla fine ci hanno dimostrato grandissimo calore, grandissimo attaccamento. La nostra società che ogni giorno è rimasta vicina alla squadra e anche per magari il gruppo dei giocatori e noi stessi per cercare di finire al meglio.